Intorno alla moneta, vicino alle stelle, se ci fai caso, sono presenti diversi segnetti che vanno a creare una sorta di cerchio, una specie di raggio. In tanti mi chiedete se questo è un errore di conio e se questo comporta un aumento del valore della moneta. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di monete di valore. In questo video parliamo proprio di questa sorta di cerchio che si va a creare solo su alcune monete. Ma prima di iniziare ricorda di cliccare un bel mi piace ed iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video. Allora ragazzi, in tanti davvero tantissime persone mi chiedete, ho una moneta che presenta questa specie di cerchio e vorrei sapere se si tratta di un errore di conio e se magari le mie monete quindi hanno un valore superiore a quello normale. Si tratta in realtà non di un errore di conio ma un difetto, un difetto che non viene creato durante il processo di coniazione ma viene creato dalle macchinette che vanno a creare i rotolini. Praticamente quando le monete vengono coniate vengono buttate tutte insieme in un cestello e lì per questo motivo andiamo a trovare dei piccoli graffietti anche sulle monete in fior di conio, anche delle ammaccature consistenti certe volte. Cosa che non ci dovrebbe essere ma purtroppo esiste perché ti ricordo che le monete, almeno quelle destinate alla circolazione, sono destinate appunto per essere utilizzate e non per essere collezionate. Quelle dedicate al collezionismo sono altre quindi le monete anche se in fior di conio possono presentare dei difetti che possono essere dei graffi e delle ammaccature. Ma torniamo al momento in cui le monete finiscono nel cestello. Cosa racchiuse in dei piccoli rotolini? Sono praticamente dei rotolini di carta come se noi prendessimo diverse monete da 2 euro, le impiliamo una sull'altra e poi per chiuderle utilizziamo della carta. Cosa fa? Questo processo viene fatto da alcune macchine quindi poi per chiudere il rotolino viene applicata una certa pressione. Quindi la carta e il macchinario spingono sulla moneta e solitamente la prima moneta e l'ultima moneta di questo rotolino che solitamente sono da 25 pezzi quindi da 50 euro per quello che riguarda le 2 euro logicamente. Cosa succede? Che la pressione va a rovinare la moneta e quindi viene impresso questo segno. Quindi ragazzi questo segno non è assolutamente un errore di conio ma potremmo definirlo come un difetto. Questo va a rovinare la moneta quindi non va a dare una miglioria alla moneta e dargli un valore aggiuntivo perché magari la renderà rara. No ragazzi assolutamente si tratta di un piccolo problema tecnico che va a incidere negativamente sul valore della moneta. Quindi se hai una moneta in fior di conio che presenta questo segno beh direi che vale meno di quello che vale una normalissima moneta in fior di conio. Questa per esempio è una moneta di San Marino del 2013 potreva avere un leggero valore di mercato in più fosse stata in fior di conio questa presa in circolazione ma dato che ha il suo giretto creato da rotolino purtroppo non ha alcun valore per i collezionisti. Questo ricordo che vale sia per le monete in euro che per le monete delle vecchie lire quindi se hai una due euro un euro oppure la cento lire la cinquecento lire che presentano questo cerchio sappi che non si tratta di un errore di conio. Bene ragazzi se il video vi è piaciuto cliccate un bel mi piace se vi va iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video potete seguirmi sia su telegram su facebook su whatsapp dove preferite trovate tutti i link nella descrizione del video. Un saluto a tutti ancora vi ricordo di cliccare un bel mi piace ciao Grazie Grazie